Galati 3 e 13 inizia così. Il Messia ci ha riscattati dalla maledizione della legge. Cosa potrebbe essere più chiaro? La Torah è una maledizione e il Messia ci ha riscattato da essa. Non è quello che leggiamo scritto. In nessun'altra parte delle scritture la Torah è chiamata maledizione. Al contrario, nel primo Salmo è scritto. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, né si trova sulla via dei peccatori, né si siede sul sedile dello sprezzante, ma il suo diletto è nella Torah di YHVH, e nella sua Torah medita il giorno e la notte. Esciò il Paolo, anche quando scrive su come il peccato ha usato il comandamento di Eloha della Torah per ingannarci, tuttavia dice. Perciò la Torah è santa. Romani 7 e 12. La Torah di Adonai non può essere sia santa che maledizione, quindi cosa dice Galati 3 e 13. In tutta la Torah ci sono descrizioni delle benedizioni che risultano dall'obbedienza alla stessa e le maledizioni che sono la conseguenza della disobbedienza alla Torah. Praticamente, Galati 3 e 13 ci sta dicendo che il Messia ci ha riscattati, ricomprati dai debiti, da tutte le maledizioni. Nello specifico, si riferisce alla maledizione menzionata nel versetto 10, maledetto chiunque non continua a fare tutto ciò che è scritto nel Libro della Legge. Deuteronomio 27, 26. In altre parole, se c'è un'istruzione della Torah che non sono ancora in grado di eseguire, o non ne sono ancora a conoscenza, o se ero solito camminare nelle vie di Eloha ma sono caduto, o non ho mai camminato nelle sue vie leggi, allora io sono maledetto e bisognoso di redenzione, essere liberato dai debiti. Yahushua ha preso le punizioni per i nostri peccati debiti su di sé. Egli ci ha riscattati dalle maledizioni, conseguenze malevole dei nostri debiti, che sono la conseguenza della nostra disobbedienza. Ma non ha mai portato via le benedizioni che risultano a nostro favore quando siamo obbedienti ai comandamenti del Padre Eterno. Kundi in conclusione Yahushua ci ha riscattati. ordanometrietera. ora ora United alla agna ora ara